Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Il grande fratello è iniziato da pochissimo, ma ci sono già diverse segnalazioni e polemiche sui concorrenti. Giuseppe Garibaldi è tra coloro che sono coinvolti. Il concorrente, che si è vantato di portare un nome così importante, essendo proprio il discendente di Garibaldi, ha spiegato di essere un operatore scolastico nella vita. Quindi un vidello. Giuseppe ha rivelato che sua madre l'ha spinto ad accettare questo lavoro, dicendogli che era importante avere un posto fisso. In realtà però, il geffino ha già provato a sfondare in televisione, a differenza di quanto detto da signorini, secondo cui i concorrenti scelti sono persone semplici, disinteressate ai social e al mondo dello spettacolo. Infatti, come dimostrano video e foto che sono stati riportati alla luce dagli utenti in queste ore, Garibaldi è apparso nella trasmissione Tipi da crociera, che è andata in onda lo scorso anno su Italia 1, con Nicola Svaporidi e Lodovica Comello. L'apparizione di Giuseppe era durata soltanto pochi secondi, durante uno sketch, ma non così poco da passare inosservata agli occhi del pubblico, ed in tanti si sono ricordati di lui. Non c'è niente di male nella sua apparizione televisiva, ma questo va contro ciò che era stato detto da Alfonso Signorini e dagli autori, in merito al fatto che i concorrenti sarebbero stati completamente sconosciuti, e molto lontani dal mondo della televisione. Al momento della sua presentazione, che è avvenuta direttamente in studio, a differenza di quanto fatto con gli altri inquilini, Giuseppe Garibaldi non ha fatto il minimo cenno ad altre partecipazioni televisive, cosa che aumenta i dubbi dei telespettatori. Il Geffino ha descritto una vita semplice, dicendo di vivere in una famiglia normale, composta da sua madre, suo padre, e quattro fratelli maschi, e che sua madre è il vero uomo di casa. Lui, originario di Reggio Calabria, fa il collaboratore scolastico, ed è felice di portare il nome di Giuseppe Garibaldi. Quest'ultimo, a suo dire, ha avuto tante eganite nella sua vita, ed infatti c'è una lunga dinastia di Garibaldini. Giuseppe ha anche sottolineato di rapportarsi con professori e professoresse, per via del suo lavoro, e ritiene che imparare faccia sempre bene. Nessun riferimento quindi, alla voglia di avere successo in televisione, o alle esperienze avute in precedenza. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi, cosa significano questi dettagli che stanno emergendo sui concorrenti? E che idea avete su Giuseppe Garibaldi? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti Grazie